Il primo consiglio per essere professionali dal punto di vista tecnico conoscere tutte le tecniche di base della batteria conoscere quali sono i rudimenti base dello strumento non essere fissato sulla velocità ma fissato più sulla dinamica questo è un mio modo di vedere cerco di lavorare più sulle dinamiche che sulla grande velocità e ascoltare tantissima musica ascoltare, imparare ad ascoltare noi batteristi spesso cadiamo anche a volte per colpa dei social network di youtube eccetera in questa trappola dove vediamo il pischello che in verità non è mai uscito di casa ma che per vent'anni ha fatto sempre lo stesso esercizio ha fatto un video, lo ha caricato su youtube è bravissimo a fare quell'esercizio e quindi giù tutti quanti a imparare quell'esercizio che poi scopriamo che non serve a niente quindi ascolta tanta musica e cerca di, secondo me, suonare un pochino in nuce, un po' tutti gli stili da subito, imparando, per arricchire praticamente il tuo bagaglio culturale e soprattutto il tuo orecchio devi arricchire il tuo orecchio non la tua tecnica subito il tuo orecchio è più importante arricchire il proprio orecchio che la propria tecnica ok? secondo me questo è importante impara a leggere la musica il solfeggio ritmico e impara a trascrivere perfettamente tutto perché spesso e volentieri per lavorare ed essere professionali non hai troppo tempo di fare le prove devi essere veloce quindi se ti dicono dobbiamo fare questa canzone e ti danno una registrazione e tu non hai manco troppi giorni per imparartela a memoria non te la imparare a memoria trascrivitela, nota per nota ok? in maniera molto meccanica intanto porti a casa il risultato e sei stato professionale sei arrivato dall'inizio alla fine bene, senza troppi errori senza sbagliare poi, nei giorni successivi farai tuo il brano lo suonerai sempre meglio con più interpretazione con più groove con più gusto, eccetera però intanto devi essere professionale quindi tecnicamente è questo altra cosa importante se devi comprarti degli strumenti cerca, a mio modo di vedere soprattutto se non hai troppissimi soldi da spendere cerca di avere l'essenziale per suonare un po' di tutto quindi non ti chiudere come a volte ho visto fare a certi ragazzi su ho visto quel batterista che fa quella cosa particolarissima e quindi mi sono comprato tutti quei piatti quegli effetti perché hai speso magari 3000 euro di piatti ma che sono tutti dei piatti non tra virgolette neutri cioè che vanno bene un po' per il funk un po' per il blues un po' per il rock un po' per il jazz ma ti sei andato a comprare lo stacks di Terry Bozio che ci puoi suonare solo le cose che fa Terry Bozio o comunque è un effetto ok? se devi comprare attrezzatura con la mentalità di voler essere professionale e professionista io ti consiglio di rimanere un po' più sul neutro quanto meno all'inizio poi mano a mano che lavori e guadagni amplierai le parti che ti mancano dove vuoi andare ad approfondire un po' di più quindi comprati uno strumento buono ma che diciamo che non sia né quelli con la cassa da 18 da jazz e basta né quei set megagalattici con dei tamburi profondissimi e 18 tom non serve un kit base standard cassa rullante 2 tom e 2 timpani che se serve cambiando un po' l'accordatura la fai suonare jazz se serve la fai suonare rock se serve la fai suonare metal quindi strumento buono ovviamente pelli buone e le cambierai di volta in volta e quindi hai aste buone che reggono montaggio e smontaggio quindi un'attrezzatura sembra banale ma un'attrezzatura che vada bene un po' per tutto all'inizio ti consente di essere professionale perché se tu dici io suono solo funk allora devi avere la batteria funk però poi se ti chiamano a suonare pop che fai non suoni il pop perché sei solo funk quello vuol dire non essere professionale soprattutto quando non sei un iper mega ultra super mega galattico nome famoso se sei vinico la iuta dici io questa roba non la suono ma se vuoi fare il batterista di professione e non sei un miliardario o non sei già il numero uno al mondo probabilmente io penso che bisogna un pochino piegarsi anche alle situazioni che ci vengono proposte quindi io per esempio non mi piace moltissimo il jazz una volta due volte mi è capitato che mi hanno proposto di andare a fare un concerto jazz con le spazzole l'ho fatto avevo studiato un po' la tecnica di base le cose non è che sono andato lì e ho fatto lo Stefano Bagnoli della situazione però ho fatto il gru accompagnavo swing un pochino così e ho portato a casa la pagnotta mi ricordo uno degli ultimi concerti swing facili che ho fatto ho guadagnato 200 euro come si diceva ma buttali via 200 euro quindi fondamentalmente se sei una persona che vuole avvicinarsi al mondo del lavoro che vuole cominciare ad essere professionale e trasformare la sua professionalità in una professione fondamentalmente devi saper suonare un po' tutto e quindi di conseguenza avere uno strumento che ti consenta che con un po' di cambio di accordature magari di pelli magari di bacchette magari insomma di aste però in qualche modo riesci ad ottenere il risultato di suonare un po' tutto in questo modo collabori con tanti progetti collabori con tanta gente si sparge un pochino la voce che tu comunque sei una persona simpatica c'hai l'atteggiamento giusto sei costruttivo ti va ad imparare ti poni bene con la gente in più hai il tuo strumento senza averne 50.000 ma hai uno strumento che però lo conosci molto bene è un buono strumento e quindi te lo vai a riadattare a seconda del contesto musicale che stai facendo quando è pop lo fai suonare pop quando è rock lo fai suonare rock e via così ok? quindi strumentazione non tantissima ma che sia versatile come deve essere versatile la tua testa versatile costruttiva e collaborativa ecco l'importante musica 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 Grazie per la visione!